Sabato 22 agosto 2020. Mancano 131 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Regina. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Incoronata. Il nome, di chiaro significato, è diffuso soprattutto nell'Italia meridionale. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il rosa e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 22 agosto del 1864, con la ratifica della prima convenzione di Ginevra, viene fondata la Croce Rossa. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 22 agosto ricordiamo il compositore francese Claude Debussy, la cantautrice americana Tori Amos. La citazione del giorno. La giovinezza sarebbe un periodo più bello se solo arrivasse un po' più tardi nella vita. Charlie Chaplin. Dice il saggio. Se porti pazienza in un momento di rabbia, ti risparmierai 100 giorni di lacrime. Il bel paese. A 20 chilometri da Forlì a Tredozio, potete visitare il vulcano più piccolo d'Europa. Poco più di un falò perpetuo, questo curioso vulcano guadagna in fascino e bellezza con l'arrivo della neve. Se però preferite andarci in estate, sulla strada potete fare una sosta a Bocconi, dove potete ammirare il ponte della Brusia e rinfrescarvi nelle acque del fiume Montone. In realtà, più che di un vulcano, si tratta di una fontana ardente di metano che risulta attiva almeno dal XVI secolo.